Firenze al primo posto in Toscana per la richiesta di sfratti in questi primi mesi del 2022, in rapporto al numero di abitanti. 50 le convalide di sfratto a settimana, segue Pisa con 23 e Livorno con 22. Inchiudendo anche il periodo pandemico, si tratta di 5.500 sfratti in tutta la regione. I numeri emergono da un incontro tra CGL, Cisle, Will e sindacati inquilini sull'emergenza casa. In totale sono 175.000 le famiglie in crisi abitativa tra chi ha problemi con gli sfratti, chi ha difficoltà a pagare i canoni di locazione. Per quanto riguarda i canoni d'affitto, l'11% paga tra i 500 e i 600 euro al mese, il 28% tra i 600 e i 700 euro, il 42% tra i 700 e i 800 euro, mentre il 19% paga più di 800 euro mensili. Per l'89% il solo affitto escluso dunque utenze e condominio incide, per oltre, il 45% dei propri redditi. Il 18% del campione versa anche una somma a nero oltre l'affitto dichiarato. Un dato nuovo riguarda gli inquilini delle case popolari, dove i canoni di affitto sono sensibilmente più bassi rispetto al mercato. La morosità per affitti, e soprattutto per le spese condominali, sta crescendo. Diverse le soluzioni proposte, indispensabile individuare una sede istituzionale dove governare il fenomeno sfratti, graduare le esecuzioni e ristrutturare tutti gli alloggi di edilizia pubblica sfitti, che ad oggi sono oltre 3.500. Ma serve anche una revisione della legge nazionale sulle locazioni, che punti, con la contrattazione collettiva e la leva fiscale, ad abbassare il livello degli affitti privati e aumentare l'offerta ad uso di abitazione principale.